Intanto il Movimento 5 Stelle va avanti nella sua corsa verso le elezioni. Il candidato premier Di Maio è impegnato in un tour nelle province lombarde per cercare di farsi conoscere un po' meglio in quel nord che potrebbe questa volta essere decisivo. Lavoro e pensioni in primo piano. Dopo il lavoro, le pensioni. Dal Pio Alberco Tribuzio di Milano, laddove partì la stagione di Tangentopoli, tappa del suo tour elettorale in Lombardia, Luigi Di Maio affronta il tema degli anziani e delle pensioni. Non è possibile che una pensione minima in Italia sia sotto la soglia di povertà. Riporteremo tutte le pensioni minime ad oltre 780 euro al mese. Una misura concreta per un programma economico presto, dettagliato, euro per euro, dice il candidato premier 5 Stelle. Non una promessa al vento come quella fatta da Berlusconi. Anche perché la classe media assicura il 5 Stelle, adesso è tutta col Movimento. E poi promette una stretta alle nomine politiche nella sanità che deve essere al servizio dei cittadini, dice, non della politica. E se Roberto Fico fa sapere che il prossimo obiettivo sono le parlamentarie e i programmi scelti dai meet-up, per il candidato premier le parlamentarie possono aspettare. Prima viene il programma e l'incontro col Paese, dice. Dunque, dritti fino al voto in un percorso che, sottolinea ancora una volta Di Maio, vedrà il Movimento correre da solo, anche dopo la convergenza con alcune parti della sinistra e sindacati sui temi del lavoro come l'abolizione del Jobs Act di Renzi e il ripristino dell'articolo 18. Io e tutte queste realtà, inclusi alcuni sindacati, e queste sedicenti realtà di sinistra, le ho viste all'opera in questi anni e sono quelli che promettevano di stare dalla parte dei lavoratori dipendenti e poi li hanno traditi. Quindi io con queste persone qui non ho molto da dirmi. Ritorna sul tema del reinserimento del lavoro, coi centri dell'impiego da ripensare e poi il governo del Paese. Siamo il primo partito e vinceremo le elezioni, dice Di Maio. Infine, su un'eventuale disponibilità del Movimento ad appoggiare un governo indicato dal Presidente in caso di maggioranza parlamentare risicata dopo il voto, conclude, non so cosa si intenda per governo del Presidente, non credo rientri nemmeno nelle sue prerogative.